Volevamo sollevare la questione dell'uso stomato dei medicinali farmaceutici, antidolorifici, antibiotici, antimetici, antidepressivi e soprattutto psicofarmaci e droghe sintetiche. Noi diciamo no ai psicofarmaci e sì alla valeriana, ovvero il matavienza. Sì lo so che non c'è qui la pianta, la mano fa niente. Quindi no ai psicofarmaci e sì al mataviz, no alla droga sintetica e sì alla marijuana legale. Legale, quella legale. E' un foraggio! E' un foraggio! Stago beh! Stago beh! Stago beh! Sago beh! Stago beh! Stago beh! De cagarse Nostaccio al pirole che invece di far bene e far mal Cagate ma da me